Dal principio? Buongiorno, oggi voglio raccontare... Cosa ho fatto? Dopo aver scelto le... Per voi? No, come... Cosa devo dire? Corazioni? Mi è andata via la voce proprio in quel momento, un attimo. Vi condurrò in un ambiente? Intanto volevo provare un po'. Volevo provare... No, oggi ho scelto quello. Una volta acquistata la dovete acquistare, basta. Fatta... Ne, fatta. Piccini, mi sono incesticata tutta. Le mani vanno bene così. I vani distrutti, spesso i nostri colleghi. Qua va bene, va bene a me. Porfa rendere al meglio le nostre... No, sbagliate, li facciamo. Se acquistate, ma dai, mi fanno i saliaggi dietro. Posso... Scusami. Il fresco è luminoso. Non è... Ma l'ho fatto. Il caso non ha malcato eccessivo. Non sono incartato, lo facciamo. Ok.